Si potrebbe andare tutti quanti all'otto comunale per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Si potrebbe andare tutti quanti ora in primavera con la bella sotto braccio a pagare d'amore e scoprire che va sempre finire che fiume e vedere di nascosto l'effetto che fa. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano un bel mondo soltanto odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale per vedere se hai dentro poi piange davvero e scoprire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché e perché no? Grazie!